Conto alla rovescia per il debutto ufficiale stagionale del Pescara, c'è attesa per vedere all'opera il Delfino nella gara nella quale riaprirà i battenti anche lo stadio Adriatico Cornacchia che lo scorso 10 maggio ratificava la retrocessione del Delfino e la festa per la Serie A della Salernitana. A distanza di 100 giorni sarà il primo contatto con il nuovo mondo della Serie C per il Pescara con un organico rivoluzionato. Nel corso di queste settimane la dirigenza si è avvicinata a quel tanto paventato Repulisti non ancora totale ma restano altri 12 giorni per finire l'opera. Dell'organico dello scorso anno dopo il mercato di gennaio tra i rientri per fine prestito, giocatori ceduti e calciatori arrivati a scadenza di contratto in 25 sono andati via. Tenendo fuori i ragazzi portati stabilmente in prima squadra dalla primavera sin dall'inizio del ritiro sono otto i reduci il portiere Radaelli, i difensori Drudi e Enzità, i centrocampisti Busellato, Memusciai e Valdifiori e l'attaccante Galano. Ci sono poi Bocic e Di Grazia tornati dai prestiti. Il drappello dei superstiti potrà ancora scendere nei prossimi giorni sotto la lente di ingrandimento la posizione dei separati in casa Busellato e Galano. Non è esclusa anche la partenza di Valdifiori che separato in casa non è, resta ben integrato nel gruppo e darà il suo contributo in caso di permanenza. Nelle prossime ore sarà definita l'operazione che riporterà a Pescara Giuseppe Rizzo della Triestina, già a Biancazzurro tra il 2013 e il 2014. Da Trieste rimbalza una voce che vuole il club alabardato, interessato proprio a Busellato per sostituirlo ma il centrocampista Veneto vuole la Serie B e la meta Giuliana non sembra per lui appetibile. Intanto come detto è tempo di calcio giocato e domani sera il Pescara sfiderà l'Olbia in gara secca. In palio il passaggio al secondo turno dove sarà affrontata la vincente di Grosseto Campobasso. In caso di parità si disputeranno tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore. Inserita nello stesso girone del Delfino l'Olbia milita da cinque stagioni ininterrotte in C. Tra le sue fila non milita più l'ex attaccante Biancazzurro Andrea Cocco che proprio stamani ha risolto il contratto al pari di Dalla Bernardina. Ma un fatto particolare è che sia pescarese il presidente Alessandro Marino che ha anche giocato nelle giovanili del Pescara. La sua città che ha lasciato a 18 anni prima di proseguire fuori gli studi e intraprendere un percorso che lo ha portato ad essere un manager molto vicino al presidente del Cagliari Giulini che lo ha introdotto nel calcio. È stato anche nel CDA del Cagliari prima di prendere il timone dell'Olbia Calcio nel 2015. Una stretta sinergia quella tra Cagliari ed Olbia tanto che il confermato tecnico Max Canzi ha guidato la primavera del club di Giulini e in prima squadra è stato vice di Walter Zenga. Tra i calciatori occhio anche all'attaccante italiano di origini nigeriane King Yudo una meteora in casa Virtus Lanciano quando nel 2016 19enne arrivò in prestito dalla Juventus.